Direttore, buongiorno. La BCC è partner di questa bellissima iniziativa per il Giro d'Italia. Sì, siamo banca vicina al territorio, poi siamo lucani, siamo lucani da sempre. Non potevamo non sostenere il comune di Potenza in questa bellissima iniziativa che valorizza non solo la città di Potenza ma insieme tutta la Basilicata. Dobbiamo fare rete perché è fondamentale valorizzare questa splendida regione. Direttore, lei è uno sportivo, le piace il ciclismo? Lo seguirà con passione questo passaggio a Potenza del Giro d'Italia? Sì, diciamo che ho un ricordo di infanzia su un ciclista bretone che era molto bravo, che si chiama Bernard Hinault perché io sono mezzo bretone, mezzo francese. Mia madre era bella e mio nonno era appassionato di questo grandissimo ciclista che ha fatto la storia del ciclismo e quindi sicuramente seguirò il Giro.